IDP, l'Associazione Italiana per la Direzione del Personale, è molto lieta di essere stata coinvolta in questi momenti di riflessione che riguardano le nuove figure professionali del mondo della sostenibilità. Oggi sempre di più c'è bisogno di nuovi profili e nuove competenze. Tutto l'aspetto che riguarda il mercato del lavoro su competenze di sostenibilità ha bisogno, ha necessità di nuovi tecnicismi, di nuovi approcci, ma anche di nuove competenze trasversali. Tra queste sicuramente se osserviamo anche le ricerche che ci sono nel mondo di LinkedIn, che ovviamente è la piattaforma social deputata a ricerca e selezione di questo ambito, noteremo che c'è stato un incremento di circa il 12% di richieste che riguardano il mondo della sostenibilità e il mondo green in generale. Sicuramente tra le figure sicuramente più richieste abbiamo tutte quelle di stampo manageriale che riguardano la sostenibilità e quindi tutti quelli che sono i CSR, in qualche modo manager, che devono coordinare funzioni aziendali preposte a tutto il mondo degli ESG, ma anche figure tecnico-specialistiche. È davvero importante formarsi in questo senso ed è davvero importante approfondire tutte le buone prassi che ci sono a livello globale. Quindi da un lato una profonda conoscenza di aspetti tecnici, dall'altro una profonda conoscenza di aspetti normativi e strategici che riguardano la sostenibilità. Ovviamente parliamo dell'agenda 2030, ma non solo. In questo la partnership che noi abbiamo come IDP con la vostra organizzazione è per noi molto preziosa e strategica, perché davvero crediamo che come Associazione Italiana per la Direzione Personale possiamo fare la nostra parte per sviluppare meglio ricerche e selezioni e formazione e sviluppo su competenze strategiche in questo settore. Anche la parte di evaluation e quindi tutta la valutazione delle prestazioni dovrebbe essere fortemente influenzata dalla consapevolezza di un approccio effettivamente sostenibile, perché questo può cambiare le aziende e le organizzazioni di lavoro e quindi in maniera molto concreta sono aspetti che vanno valutati e implementati sia per quanto riguarda figure professionali specialistiche del mondo della sostenibilità, ma anche per tutti gli altri manager e non solo, che hanno bisogno di avere un approccio sempre più green e sempre più rispettoso nella sostenibilità a tutto lungo. Per questo motivo noi siamo molto felici di essere al nostro fianco, siamo molto felici di fare la nostra parte e certi che sicuramente mettere in campo altri progetti, altre iniziative, perché la sostenibilità è sicuramente figlia del benessere delle persone e delle organizzazioni che è anche la nostra mission, la mission di IDP. Grazie a tutti.